Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Lorenzo, il mio omonimo, e della Clio. Non è l'auto di Lorenzo, è l'auto di sua sorella Elena e lui fa da portavoce perché Elena dal punto di vista diciamo tecnico. Sì esatto, un po' timidina, faccio io le sue veci. Giusto per dirvi, Lorenzo ha una setta Ibiza 1.6 turbodiesel, cambio manuale, che in caso lo porterò nel canale perché ha già quanti anni ormai? Cinque anni e 105.000 km. Bene, quindi penso che sarà un bel confronto, magari possiamo fare l'Ibiza contro la Clio di tua sorella e vedere un attimo i consumi e come va, anche se la tua ha già un po' più di anni, però andremo a vederlo. Ok. Bene, siamo in compagnia di questa Clio qua che non è una Clio, è la Clio top di gamma, diciamo così, perché è il motore 1.6 e tech, esatto, quindi full optional ed è anche la versione Esprit Alpine, quindi la versione top, top di gamma con anche circa 2.000 euro di optional. Esatto, a listino quasi 28.000. Quasi 28.000 euro, siamo su un'utilitaria, 28.000 euro. Non sono pochi. Non sono pochi. Però di contenuti ce ne sono. Sì, esatto, è quasi per alcuni aspetti quasi un'auto di categoria superiore anche per gli ADAS e gli aiuti alla guida e una serie di altri accessori che poi vedremo. Bene, comunque dopo andiamo a vedere tutto quanto, come va, come non va, gli optional e perché quest'auto è così particolare, perché ha un motore particolare che ormai già conoscete, ve l'ho portato sull'Arcana, c'è anche sul, adesso sulle Dacia e altre motorizzazioni, cioè altri veicoli ed è un motore che ha i suoi frutti perché i consumi sono veramente molto bassi. Siamo all'incirca? Diciamo con la guida di mia sorella che è anche abbastanza tranquilli. In generale si escono a fare i 4 km, i 4 litri per 100 km. Significa 25 km con un litro. Perché lei quanti chilometri ha per andare al lavoro? 26 km. 26 km andare? Andata, esatto. E 26 tornare. Quindi ogni giorno fa questi chilometri qua e ho visto prima della media sono 4.0. Sì, esatto. Quindi è buono, è una macchina che per carità non è un SUV pesantissimo, però è un'auto che ha una buona resa. Bene, adesso andiamo a vedere un attimo l'auto mentre Lorenzo ce la racconta, anche perché lui è appassionato un po' di auto e di tecnologia e così ve la raccontiamo insieme. Eccoci qua, partiamo sempre dal frontale che secondo me nelle styling che hanno fatto l'hanno cambiato, l'hanno stravolto, però mantenendo sempre le stesse misure, diciamo così. Vedete che hanno cambiato completamente i fari, i fari sono sempre full led, se non sbaglio. Sì esatto, sono full led, l'unica cosa è che non ci sono i fendi nebbia. Ah ok, anche io nel mio capture non ce li ho, quindi basta abbassare i fari del tutto e da lì diventano dei fendi nebbia, diciamo così. Vedete che i fari sono bellissimi, questi fari qui, e i fari di posizione sono queste qua, che è praticamente il simbolo della Renault, che è questo qui, tagliato a metà. Mettiamolo così e vedete che questo richiama il faro. Molto molto interessante e molto bello. Com'è bello anche questa parte qui in grigio opaco, che è bella, mi dà quel senso di sportività e di apertura dell'aria. Guardate che bello che è il davanti, molto interessante. Com'è anche interessante questo blu qui, che è molto particolare secondo me. E poi vediamo che anche qui hanno messo queste listelle cromate che danno un aiuto e hanno mimetizzato la telecamera frontale qui, perché anche questa qui ha la telecamera 360. Sì esatto. Che è un optional se non sbaglio. Che è un optional, esatto. Quindi già un'optional per le 360 che dopo vi faremo vedere come funzionano. Tra l'altro un dettaglio, secondo me, di questo frontale è che hanno fatto più attenzione ai flussi d'aria. Infatti vediamo nei lati proprio le aperture. Sì, perché questa qua non è finta, qua passa proprio l'aria. Vedete qui? Passa l'aria direttamente per queste feritoie qua, che servono per raffreddare i freni e anche per i flussi d'aria, per migliorare il fix. Bene. Vista frontalmente è così, alziamo un po' lo sguardo ed è fatto così. Bello questo blu e nero che viene richiamato poi anche all'interno. E visto dall'alto, eccola qua. Bene. Adesso andiamo a vedere un attimo la parte laterale. Questa qui. Vedete il cerchio dedicato proprio della versione Spiral Ping. Bellissimo. Nero, lucido e la cromatura qui grigia. E poi, guardate il coprimozzo come l'hanno fatto. Vi chiama il mondo delle corse e delle auto. Bello. E ha una gomma già continuita al 205, 45 e laggio 17. Quindi bassa. Non si sente all'interno tantissimo questa spalla così bassa. Ed è un'auto dalla tenuta di strada molto molto valida, secondo me. Tu che l'hai provata Lorenzo? Sì, esatto. A livello di guida tiene bene. Direi che anche il telaio potrebbe, cioè regala belle gioie, secondo me. E a differenza, ad esempio, dell'Ibiza che è più morbida, forse, l'Ibiza? No, in realtà la mia Ibiza ha un pacchetto, un allestimento sportivo, anche quella ed è più rigida, in realtà, di questa. Ok. Comunque anche quella lì andremo a vederla e a provarla. Qui abbiamo le frecce sugli specchietti, come vedete, e qua sotto abbiamo la telecamera del 360, che poi ci fa vedere quando magari dobbiamo passare vicino a dei cordoli, cosa del genere, vediamo dove siamo e come siamo con la posizione. Molto molto comoda. Abbiamo comunque la chiave Keyless, quindi arriviamo vicino e lei si apre. qui abbiamo un bel maniglione per aprirla, invece dietro l'apertura è mimetizzata qua, così. Anche qui tutto nero lucido, come anche l'antenina, vedete l'antenina Shark, anche quella nera lucida. Hanno cambiato nel restyling i fali che le hanno fatti trasparenti, come vedete. Adesso l'auto si è chiusa perché ci siamo allontanati. Sì, e avendo le chiavi in tasca, lei si apre e si chiude in automatico. I fali, come vi dicevo, tutti quanti trasparenti, vedete qua che richiama queste linee qua che ripartono dal davanti e vista dietro è così. Bello anche la telecamera che anche qui la mimetizzata bene nel loro losanga qui, la scritta Clio in nero e la scritta poi E-TEC che va appunto a dire che motorizzazione è questa qui. Visto dal basso è così. Mi piace che Renault non abbia fatto gli scarichi finti. È vero. Abbiamo fatto solo l'estrattore così dell'aria grigio, quel grigio qui che ritroviamo anche davanti e soprattutto non ci sono quei finti scarichi. L'unica cosa di finta è queste prese qua dell'aria che sono chiuse a differenza di quelle davanti. Questa è l'unica cosa che ha fatto, diciamo così, giusto per dare uno stile diverso. Bene, ormai che siamo dietro Lorenzo io guarderai il bagagliaio, magari anche lo misuriamo. Ecco un contro sicuramente che anche nella versione precedente è che l'apertura del bagagliaio è fatta qui sotto e diciamo che quando piove a volte ci si sporca la mano o ce la si bagna per riuscire ad aprire il bagagliaio. Quindi questo un piccolo dettaglio che è... Eh sì, questo qua forse magari quando i flussi dell'acqua e della pioggia vanno sotto qua ti sporchi sempre le mani. Sì, è vero, esatto. Era forse meglio integrarlo magari da qualche altra parte. Va bene, ecco questo è il nostro bagagliaio, è un po' più piccolo delle versioni GPL, diesel eccetera, perché abbiamo comunque mi sembra 80 litri in meno. Sì, esatto, 80 litri in meno, per il fatto che abbiamo qui dietro le batterie del motore ibrido, esatto. Qui abbiamo, vedete, l'impianto Bose e quindi abbiamo anche il subwoofer integrato qui dentro. L'impianto Bose secondo me ne vale veramente la pena perché io ce l'ho sulla mia Captur e ce l'avevo prima sulla Scenic. È un'altra cosa. Suona molto bene. Suona molto molto bene e non porta neanche via spazio perché è già integrato qui dentro. Se vuoi Lorenzo, gli diamo un attimo una misurata giusto per dire anche effettivamente quant'è il bagagliaio. Abbiamo 96 cm, una profondità di 69 cm e c'è questo scalino qui che è un po' importante. Sono 24 cm e mezzo ed è bello importante. La mettere dentro la valigia devi proprio inserirla dentro diciamo così come come spazio. Bene, poi per il resto mi sembra ben rifinito tutto a moquette, non ci sono plastiche in vista, la luce qua per illuminare il nostro bagagliaio c'è a destra e poi per il resto è tutto molto ben rifinito. Da quel punto di vista la sì. Diciamo che per un, non dico per una famiglia numerosa, però comunque per una via in due in tre è stato tranquillamente. Senza problemi, senza problemi. Bello e anche qua tutto bello blu, tutto pitturato bene. Non vedo, magari qua se coprivano il gancio, io ce l'avevo già nella mia Ibiza vent'anni fa la copertura qua del gancio, qui l'hanno lasciato così a vista, magari uno si incastra. Vabbè, non mi piace tanto questo dettaglio qua, però costa niente. Un po' meglio, però va benissimo. La copertura ce l'abbiamo qua, diciamo del gancio, però non in chiusura. Bene, adesso magari proviamo a salire dietro, vediamo quanto spaziosa è, andiamo a vedere i sedili e come sono gli interni. Prima di farvi vedere gli interni, volevo farvi notare i vetri privacy, che sono veramente tanto privacy. Guardate, dentro non si vede quasi niente e servono anche per l'irraggiamento solare, in modo che non si riscaldi di più l'abitaco e fa anche la sua scena, diciamo così. Cioè, questo blu è il nero dei vetri, c'è la versione full optional, costerà un po' di più, però ci regala un tutto un altro mondo, anche come per carità. Poi c'è chi non interessa niente dell'auto, dell'estetica, però in questo caso qua cambia completamente. Bene, adesso saliamo dietro, io apro un attimo la porta, così vi faccio vedere Lorenzo che sale dietro, ed eccoci qua. Allora, Lorenzo è alto. 1,82. 1,82 e guardate comunque di spazio, ci siamo a filo. Sì, esatto, io qui sfioro la testa, ma ci sto, il sedile è impostato sulla mia altezza, quindi alla fine sto comandamento. Sì, un po' di spazio ce n'è. Vedete i sedili che belli che sono, sono quelli appunto dell'Australia Speed Alpine, la versione top di gamma, sono veramente molto, molto belli anche a vedere da dietro. Cosa che notavo, non ci sono le maniglie a prendersi, però ci sono le luci. Non c'è la plafoniera centrale, ma ognuno ha le sue luci, una cosa che non si trova su tutte le utilitarie, questa cosa qui. Non ci sono bocchette dell'aria dietro, neanche prese USB-C o cose del genere, proprio da quel punto di vista lì, qui manca qualcosina. Qua tu ti sedili sempre in pelle, finiti in pelle e in plastica, con questo incavo per mettere dentro le gambe per avere più spazio. Guardate che bello che è il sedile, è veramente interessante. Abbiamo la regolazione delle cinture, quella lì in altezza, possiamo alzarlo e abbassarlo. Vedete lì la cintura è anche blu, che richiama sempre il discorso esterno di questo blu, per esprimere al pink. Qui poi abbiamo comunque due sedili, che sono frazionabili 40-60, abbiamo gli attacchi Isofix. Eccoli qua. E poi è ben rifinita. E il cielo non l'hanno fatto nero, 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 altrimenti sarebbe stato troppo cupo. Sì, è vero. Perché così già questo grigio è un po' più scuro, però sta bene. Sì, è un dettaglio che sta bene. Sicuramente anche questo fa un po' di differenza rispetto a altre auto. Sì. E poi vediamo la plancia vista da dietro. bella, pulita. E dopo andremo a vedere anche i materiali che ci sono davanti, che secondo me sono molto interessanti. Anche qui abbiamo sempre la plafoniera anche di sopra. Due luci, sì, divise. E poi abbiamo il tasto dell'SOS. Guardate anche lo specchietto dietro, che non ha cornice. Molto interessante. Bello anche esteticamente. Quello sembra di averlo visto già sull'Austral. È molto simile a quello dell'Austral, quindi di categoria superiore. L'hanno riportato anche qua. Sono dettagli, eh. Però sono dettagli che fanno la differenza. E qui abbiamo il cambio automatico. Un cambio un po' particolare. Che poi andremo a vedere magari quando facciamo una prova su strada. Sì. Lorenzo cosa ne pensi di questo cambio? Allora, diciamo che in una guida tranquilla è sicuramente una bella soluzione, soprattutto perché con l'unione della possibilità del brake, quindi di riuscire quasi a guidare con un solo pedale, è sicuramente molto comodo e quindi in una guida più cittadina funzionale. A volte diciamo il contro è che quando si richiedono più prestazioni, a volte è un po' una pecca perché le cambiate sono molto molto lente, perché Renault ha fatto una scelta tecnologica un po' diversa e quindi il motore a benzina ha solamente 4 marce e infatti la prima e la seconda è solo il motore elettrico. Quindi nel momento in cui siamo a una velocità un po' più alta e chiediamo di una spinta maggiore, il cambio a volte è molto molto lento a cambiare. C'è un vuoto, c'è quasi un vuoto che il motore elettrico va un po' a colmare ma si sente soprattutto perché la cambiata è lenta e a parte questo in alcune circostanze a volte tendi a tenere fin troppo quasi la marcia, ti viene quasi l'ansia perché dici caspita vorrei cambiare. Ecco questa è l'unica nota negativa ma solo quando si richiede più prestazioni. Per il resto è sicuramente favoloso perché speda molto bene. Questa è una modalità che si può mettere in sport, diventa abbastanza nervosetta l'auto. Sì, diventa nervosetta, anche il volante è molto diretto, un po' il cambio effettivamente in quella circostanza migliora ma resta un po' questo fatto. Sì, infatti questo difetto qua l'avevo riscontrato anche sull'Arcana, questo vuoto, tanti mi hanno detto di no, bisogna studiarlo un attimo. Sì, esatto, esatto. Comunque devo dire che in una guida normale è veramente favoloso. Anche si fa a una resa assurda. Bene, adesso saliamo davanti e vediamo un attimo come sono fatte le varie plastiche, i vari materiali e poi vediamo anche un attimo il display e come funziona. Vedete che l'apertura della porta è veramente grande, è grande sia la porta ma anche l'apertura è quasi a 90 gradi, questo mi agevola ad entrare dentro ed è comoda questa apertura qui. Poi vediamo qua i materiali comunque, plastica rigida ma ben rifinita secondo me, qua abbiamo tutto tessuto, qui sempre pelle, ecco pelle diciamo così, dove appoggiano il gomito morbida e questo mi ricordo molto i materiali della Captur, finestrini elettrici davanti e dietro sempre tutti automatici, gli specchietti elettrici e anche il blocco degli specchietti. Qui sotto invece abbiamo delle plastiche un po' più rigide. Impianto sempre Bose, qua abbiamo la scritta al pin, vedete qui e qua la pedaliera, vedete anche quella lì, stile racing così con il metallo, ci aiuta ad essere un po' più carini, ecco così, diciamola così. Qui abbiamo tutti i nostri, il mantenimento di corsia, quella regolazione delle luci, delle altezze eccetera e poi guardate che bei sedili che abbiamo. Perché i sedili sono veramente, secondo me, belli. Con questa qua, la nuova appoggiatesta che fanno appunto fatti un po' curvi, dire no, il simbolo dell'Alpine qui, pelle e tessuto, dei bei fianchetti, sono veramente robusti come fianchetti e anche traforati e sempre con questa in puntura qui in azzurro. Qui c'è la bandiera della Francia e i sedili sono veramente belli, molto molto interessanti. Anche qui vedete dove c'è il bracciolo, sempre la cucitura in azzurro e tutto in azzurro e tutti i due i sedili hanno comunque la bandiera della Francia. Sono particolari, sono particolari che però ti fanno fare la differenza. Ok, questo è il nostro cruscotto, vedete un super display che possiamo cambiare comunque, dopo in caso quando la stiamo usando vi facciamo vedere le differenze di vista, qui possiamo mettere anche il navigatore se non sbaglio. Esatto. E guardate il particolare del nostro volante, vedete, qui hanno fatto il ricamo con i colori della Francia, della bandiera francese. Poi abbiamo tutta pelle, qui è pelle traforata dove si tiene di più il volante, dove almeno non sudo ed è bello sto volantino qua con la cromatura centrale ed eccoci qua. Qua ci avrei messo magari la di Alpine. Sì, forse è esagerata. Bene, questo è il nostro cruscottino dove qua abbiamo i flussi di energia, vedete qua la batteria, il motore e le ruote, che dopo quando andiamo a correre vedrete che ci sono i vari flussi che vanno da una parte o dall'altra perché si sta ricaricando oppure si sta usando l'energia della batteria per far andare il motore. E questo è il nostro super display che magari adesso accendiamo un attimino, ecco così, testa e funzioni. Adesso l'auto è accesa così. Qui abbiamo il nostro display, Android Auto, Apple CarPlay, ce li ha tutti e due. Sono anche wireless tra l'altro. Ah, hanno fatto l'aggiornamento qui. Sono wireless, esatto. E tra l'altro un altro dettaglio interessante è che il navigatore di serie la ricerca è tramite Google e non la classica ricerca del navigatore. Questo ci permette quindi di riuscire a trovare per davvero le destinazioni dove invece con il navigatore normali delle auto molto spesso non si poteva fare una ricerca proprio come si fa. Sì, vuoi trovare un ristorante, lui lo trova direttamente. Lo trova, esatto. Questa è una cosa interessante, quindi siamo quasi a livello dell'Android Automotive che troviamo sull'Austral, che troviamo adesso sul Rafale eccetera. E questo è interessante questo aggiornamento qui. Qui abbiamo i tasti del climatizzatore che ad esempio io ho visto che sulla nuova Captur l'hanno tolto, che secondo me è una cosa più pratica di sto mondo. Sì, è vero, è vero, molto molto comodo. Poi abbiamo il tasto EV per andare solo in elettrico, il Multisense che si permette, io approfitto Lorenzo. Vai, vai. MySense, vedete, posso mettere Sport e l'auto cambia tutta la grafica qui all'interno, vedete che è cambiata e diventa tutta più sportiva, l'auto diventa più rigida, il cambio cambia completamente. E poi invece abbiamo la versione contraria, ecco, che ci permette di risparmiare energia, cambia anche qui, vedete la grafica, diventa in verde e poi ci permette però di risparmiare tanta energia in questo caso qua e di consumare molto meno. E volevo farvi vedere, adesso forse non si vede, qui c'è una Stisha LED su questo bordo qua che cambia in base alla nostra... Sì, all'impostazione, esatto, se Sport diventa rossa, MySense è blu ed eco verde. Sì, che poi si può personalizzare. Si può anche personalizzare, esatto, sì, sì, sì. Qui vedo il tasto del P, ma anche il parcheggio automatico questa? Sì, avrebbe anche il parcheggio automatico. Ah, addirittura, quindi possiamo mettere P e lui cerca il parcheggio e il parcheggio direttamente in automatico. Sì, esatto. E queste sono le telecamere del 360 che è un optional che però, guardate, vedete che ci fa vedere qua i bordi laterali e si può cambiare anche la grafica, mi pare di sì. Ecco qua e ci fa vedere appunto la ruota e se la porta è aperta, adesso noi la chiudiamo, vedete che io devo passare a bordo qua, magari non so, c'è una cordonata, una cosa già, non so quanto vicino sto parcheggiando per non rovinare i cerchi e l'auto e vediamo che qua comunque vediamo appunto la nostra. Non ha una definizione molto molto alta, mi sembra così. Sì, esatto, ho visto già la mia Ibiza che ha cinque anni, la qualità delle telecamere è sicuramente più alta anche rispetto ad altre auto che ho visto, un po' così così la qualità. Sì, vedo che non è proprio precisissima, insomma. E qui poi mettiamo questa impostazione qua, allora qui si dà la retrocamera però con i sensori di avvicinamento agli ostacoli. Eh sì, è completa di tutto perché è veramente completa di tutto quanto, non gli manca niente a quest'auto, qui davanti abbiamo due prese USB e anche l'accendisigari, il jack da 3,5 e questo è il famoso cambio che parlavamo prima. Tra l'altro un altro dettaglio sempre riguardante il navigatore, Renault, sempre in collaborazione con Google, ha permesso di fare una cosa per migliorare ulteriormente l'efficienza, ovvero che se imposto una destinazione, lui in base al tragitto che farò verificherà dove avrò i maggiori consumi potenzialmente, dove potrà sfruttare al meglio il motore elettrico, quindi regolerà di conseguenza la carica per arrivare ad esempio in città, a utilizzare proprio la parte elettrica e non utilizzarla fuori città dove potrei invece sfruttare il motore a benzina. Eh Dio, questa è una bella cosa e vedo che comunque i navigatori, la tecnologia e queste cose qua, addirittura ho visto sulla Tiguan, che avevo fatto la prova di sera, che ti anticipava dove c'erano le rotonde e ti diceva di mollare l'acceleratore, cioè ormai stiamo arrivando veramente a cose quando ci sarà la guida direttamente da parte delle auto, anche se non so quando mai, però stiamo andando verso quel traguardo lì, guardate qui il dettaglio dell'impianto audio Bose, questa è tutta la plancia, tutta plastica morbida, quindi questo ci permette di non avere vibrazioni o rumori strani durante la guida e qui invece abbiamo le bocchette dell'aria e questo è un tessuto con sempre la bandierina della Francia, messela così. È molto carina, e anche qua la plancia così e qua abbiamo tutti i portaoggetti, freno di stazionamento elettrico e i portabicchieri. Bene, Lorenzo cosa dici, andiamo a provarla e così parliamo del più o del meno come va. Ottimo, andiamo. Eccoci qua, allora adesso facciamo una piccola prova direttamente con, vedete abbiamo messo i flussi, i flussi qui dell'energia, come va, come sta caricando il motore e tutto il resto. Il cruscotto si presenta così, quando si accende, adesso l'auto è accesa, vero Lorenzo? Sì, è accesa. È accesa e non si sente niente, praticamente il motore è spento. Adesso partiamo e vediamo come vanno i flussi e come funziona l'auto. Bene. Pogliamo l'acceleratore. Eccoci qua, vedete che adesso la batteria sta dando flusso ai motori elettrici. Il motore termico è spento. Silenzio al massimo. Viene riportato anche nel display. Ok, anche nel display sotto, vedete che viene riportato il tutto. Siamo a 45 all'ora e stiamo andando ancora in elettrico. Questo dovrebbe essere per circa quasi due chilometri. In realtà anche un po' di più, arriva quasi a 4. Ah ok, quindi possiamo fare 4 chilometri anche perché adesso è estate e le temperature fuori sono di 26 gradi, come vedete, e quindi la batteria dura anche di più. Bene, adesso usciamo dal centro abitato. Comunque anche quest'auto qua ha tutti gli ADAS possibili e immaginabili. Quello che ci serve c'è su tutto e quindi è un'auto completissima. Come vedete adesso è partito il motore termico. Eccoci qua che vedete il cruscotto. E qua ce lo indica direttamente sui flussi. Si sente appena una piccola vibrazione perché è abbastanza silenzioso. I giri non sono mai altissimi. Volevo farvi vedere appunto gli ADAS che qui mi mette che manca un secondo e 7 dall'auto che ci precede. Eccoci qua, vedete. Quindi ci dà gli spazi di arresto. Un bel cruscotto enorme che dopo si può cambiare anche le grafiche in caso... Vediamo se si può cambiare le grafiche. Ovviamente corriamo. Ecco vedete c'è la grafica anche con il navigatore e i due i contragiri, l'energia e poi potete cambiarla come volete voi. Molto molto limpido e anche si vede bene. Molto bene. Adesso vedete abbiamo rallentato e sta caricando la batteria perché sfrutta la frenata rigenerativa per caricare la batteria. Quindi qualsiasi cosa viene sempre recuperata con quest'auto. Ed è per questo che è così efficiente. Adesso abbiamo messo la modalità sport per farvi sentire appunto quello che diceva prima Lorenzo che sta tanto su di giri. Sentite adesso, siamo a 48 all'ora. Ok, 49 all'ora che siamo in centro abitato. E sentite il motore. Se andiamo a vedere la modalità dei flussi che se non sbaglio era... Info. Ok, Info energia. Flusso dell'energia. Vedete che adesso lui in sport sta usando il motore termico perché è sempre pronto alle prestazioni maggiori. Se lo mettiamo in eco andrebbe comunque in elettrico. Però sentite i giri del motore che sono sempre molto alti. E quello che diceva prima Lorenzo che dovrebbero cambiare per farlo riposare invece no, lui è sempre lì a livello alto. C'è un cambio un po' particolare che magari è fatto apposta per tenere al motore sempre a regime... A livello di efficienza migliore. Esatto. E quindi... Vabbè. Funziona così. Noi ci accontentiamo dei suoi consumi molto molto bassi. Come abbiamo visto siamo sui 25 chilometri con un litro di benzina. E adesso passiamo un attimo al centro abitato poi vi faremo sentire un attimo come va la ripresa. Se il traffico se lo permette. Ecco, ma magari una piccola accelerazione la facciamo. Ecco, adesso facciamo una prova di accelerazione in sport. Eh, comunque va bene. Adesso ha cambiato la marcia. Hai sentito? Oh, è il vuoto. Cioè, lei va, va benissimo. Però c'è questo cambio che è un po' particolare, diciamo così. Da farsi la mano, forse. Però per il resto l'auto si sentono i 145 cavalli, si sentono tutti. Bene. Adesso andiamo dove abbiamo finito, dove abbiamo iniziato il nostro video e poi tiriamo le conclusioni. Bene. Eccoci qua. Siamo tornati appunto da una piccola prova. Spero che vi abbiamo portato quasi cosina di nuovo. Insomma, diverso dalle altre recensioni. Non ripeto, io voglio fare queste recensioni qua e parlare direttamente con chi la utilizza o con qualcuno che l'ha acquistata. Perché sono le recensioni più reali. Andiamo a vedere i consumi reali, non quelli scritti sulle carte o quelli che provano l'auto un attimino. Perché qua comunque, avete visto, abbiamo già fatto 800 chilometri dall'ultimo reset. Abbiamo fatto quasi 4000 chilometri per quanto riguarda l'auto. E quindi sono dati reali. Sì. Dati di chi la utilizza tutti i giorni. Ecco, per questo mi piace fare queste recensioni qua. perché le recensioni fatte di un'auto che ti danno così in prova... Concordo. A me non è... Io le vedo che non sono reali come parlare con voi che ce l'avete e la usate tutti i giorni. Insomma, ecco tutto qua. Chiaro. Questi sono dati veramente. Dopo, è logico che se la Elena fassesse tutta l'autostrada tutto il giorno... I dati sarebbero diversi, ma non avrebbe fatto questa scelta di quest'auto probabilmente. Magari avrebbe preso diesel. Probabile, esatto. Perché questa qua la fanno anche diesel, la fanno a GPL e la fanno anche a benzina. Quindi ci sono tutte le motorizzazioni, non la fanno elettrica al momento. No, al momento no. Al momento no, però tutte le altre motorizzazioni ci sono. E sono anche motorizzazioni molto interessanti. Bene, io ringrazio Lorenzo. Grazie a te. Ringraziamo la Elena virtualmente, diciamo così. E poi magari un domani se facciamo la tua auto con questa qui, potrebbe essere una cosa interessante. Magari scrivetelo sui commenti se secondo voi può essere una cosa interessante confrontare un 1.6 turbodiesel di 5-6 anni fa. Esatto. Comunque. Dopo 105.000 km. E quest'auto che è un 1.6 ibrido. La differenza di prezzo bisognerebbe confrontare al giorno d'oggi. Il giorno d'oggi. Si è alzata. Si è alzata. Non di poco. E magari vedere anche l'abitabilità interna e le varie cose. Magari un giorno ve lo portiamo su questo canale. Fateci sapere se vi interessa. Nel frattempo iscrivetevi al canale che è gratuito. Non costa niente. Basta premere iscriviti. Attivate il tasto delle notifiche e mettete un bel mi piace. Grazie a tutti. Ringrazio ancora Lorenzo. Grazie ancora. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.